Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto i dottori Minasi e Paravatti del loro gentilissimo invito e complimenti per questo congresso. Io parlerò di patologie del collo di interesse chirurgico che sono un insieme eterogeneo di anomalie, ne parlerò solo di alcune ovviamente. Qualche volte queste possono un pochino mettere in difficoltà il pediatra che non sa magari come gestirlo o che specialista inviarlo, quindi cercherò di dare dei messaggi molto concreti. Questo è il primo caso che vi mostro, una tumefazione semplice in un paziente totalmente in benessere del collo, asintomatica, questa tumefazione è mobile e non fissa con i tessuti, per cui il pediatra era assolutamente tranquillo, non ha consigliato nulla se non l'osservazione, ma la mamma non ci stava e dopo un mesetto di insistenze è andata a farsi un'ecografia da un'altra parte. Per farla breve, questo era un nodulo tiroideo che poi è risultato maligno, captante alla PET e abbiamo dovuto eseguire la tiroidectomia totale. Nella chirurgia tiroidea la cosa più importante è salvaguardare i nervi ricorrenti e il sistema è un monitoraggio intraoperatorio tramite un tubo tracheale, vedete, con elettrodi posti anche sul torace per fare un circuito, per cui il chirurgo oltre a vedere il nervo può anche stimolare il tessuto per ricercarlo e vedere la risposta sul monitor. La tiroidectomia totale, come dicevo, di solito il trattamento di scelta per i tumori tiroidei nel bambino, si riesce a eseguire attraverso una citatrice piuttosto piccola. In qualche caso si sceglie, ed è sempre una scelta condivisa da endocrinologi e soprattutto oncologi, l'emitiroidectomia. Questa ragazza aveva un istologico l'ago aspirato precedente all'intervento ripetuto due volte incerto su malignità o non malignità e sul tipo di tumore e per cui è stato deciso di eseguire un'emitiroidectomia. È risultato essere un tumore papillare, quindi teoricamente il trattamento più appropriato poteva essere la tiroidectomia totale, ma visto l'ottima prognosi dei tumori tiroidei nell'età pediatrica, si è deciso per ora di mantenere questa ragazza in follow up e di estendere eventualmente l'intervento e la tiroidectomia totale solo in caso di recidiva. In qualche caso invece quando il tumore è più avanzato, come in questo caso, vedete sulla destra una grossa massa, qui c'erano anche i linfonodi presi e quindi alla PET preoperatoria e quindi abbiamo dovuto procedere durante l'intervento alla linfonia cervicale bilaterale, quindi uno svuotamento radicale del collo e qui di nuovo vediamo il nervo ricorrente e una paratiroide che di nuovo l'altra caveat della chirurgia tiroidea è salvaguardare le paratiroidi nel bambino. I cisti mediani del collo sono simili per certi versi al nodulo tiroideo, qualche volta scompaiono, qualche volta appaiono improvvisamente, sono di solito più mediane, sono mobili e l'intervento chirurgico è ovviamente la resezione perché si possono infettare, perché poi dopo l'infezione è più difficile anche orientarsi nei tessuti, ma la cosa importante è oltre alla cisti andare sull'osso ioide, vedete qua l'osso ioide, vedete la parte centrale dell'osso ioide viene proprio reseccata perché il tramite va oltre l'osso ioide verso la lingua, qui c'è la lingua e noi dobbiamo arrivare proprio alla base della lingua per essere radicali, altrimenti c'è rischio di recidive. Questo invece è, qui c'è la diciamo la mandibola, qui c'è una piccola lesione cutanea secernente, questo è un residuo branchiale, sono molte le possibilità, vi risparmio la classificazione, vari arti branchiali eccetera, cosa importante è che qui sono patologie assolutamente benigne, ma fastidiose, proprio per infiammazione, per secrezioni, per cui di solito si operano e possono esserci dei tramiti, vedete, molto lunghi, di solito sono quasi sempre tramiti molto lunghi, quindi è importante seguire dettagliatamente il tramite, guardate sembra che non finisca mai, che va verso la bocca, verso la tiroide a seconda dei tipi di cisti o di fistola e a volte bisogna eseguire multiple incisioni, quindi si esegue una prima incisione in basso e poi si eseguono altre incisioni più avanti per seguire, anche qui è importante essere radicali per così, e radicare bene la malformazione e non avere recidive. Questa bimba era stata mandata da noi come un ascesso su cisti branchiale, perché era laterale, la posizione poteva essere questa, l'ecografia e anche la risonanza sembravano avere quella direzione, in realtà era poi un pacchetto linfonodale molto importante che abbiamo dovuto svuotare completamente e il risultato essere micobatteriosi, atipica, quindi questa questa bambina ha necessitato di una terapia antibiotica prolungata. Poi c'è tutto il capitolo delle malformazioni vascolari che possono essere linfatiche, possono essere venose, possono essere miste e qui è importante ovviamente la risonanza per l'imaging e valutare soprattutto se c'è una compressione della via aerea e decidere insieme il trattamento. Il trattamento può essere percutaneo, di solito noi abbiamo dei radiologi interventisti che eseguono il trattamento percutaneo, vedete qui a sinistra di malformazioni, soprattutto quelle macrocistiche perché quelle microcistiche rispondono poco alla sclerotizzazione o all'alcolizzazione, oppure la chirurgia e qui a destra vedete il nostro intervento sul caso di cui abbiamo visto prima la risonanza, un infangioma cistico neonatale molto grosso, abbiamo preferito in questo caso la chirurgia proprio perché la reazione in questi casi dei tessuti può essere molto importante, abbiamo paura in una compressione della trachea che già c'era, quindi se la lesione alcolizzata avesse creato un'infiammazione importante poteva avere problemi grossi questo neonato. Un altro neonato con un'altra patologia del collo, una fistola d'acca tra la trachea e l'esofago, qui anche se alcuni preferiscono approcciarla per via toracotomico-toracoscopica, in realtà attraverso il collo si raggiunge molto facilmente questa fistola e si isola con un piccolo accesso, questo è l'esofago, qui c'è la trachea, qui di nuovo il nostro amico nervo ricorrente che è proprio lì in mezzo e qui c'è la fistola, qui c'è il fascio vasco nervoso del collo. Nonostante in questo caso avessimo visto benissimo il nervo ricorrente e l'avessimo ovviamente risparmiato, questa bimba ha avuto per qualche decina di giorni una paralisi bilaterale delle corde vocali, per fortuna poi si è risolta totalmente senza esiti, però questa chirurgia è gravata da possibili complicanze anche importanti. E qui vedete l'esito chirurgico nella stessa bimba, prima e dopo l'intervento chirurgico a distanza ai controlli, vedete che la chirurgia nei neonati ha veramente di solito degli ottimi esiti anche estetici. Qui non ho resistito, non è proprio collo ma pochi centimetri più in basso, vedete, un cleft sternale. Questo ragazzo non è mai stato corretto, stranamente, normalmente c'è un'indicazione chirurgica in tutti i casi, di cui vedete proprio lo sterno che è aperto, quindi il collo praticamente continua verso lo sterno, però sotto ci sono il timo e ci sono gli organi, vedete come in questo caso, in questo neonato, vedete una malformazione più grave, cioè sempre la sternal cleft, ma completo, quindi qua vedete il cuore e la chiusura deve essere primaria, se possibile, in età neonatale, è molto più facile e qui vedete il risultato dopo la chiusura, vedete che non c'è più questo bulging dei visceri mediastinici. Poi l'ultima parte della mia presentazione sarà sulla patologia respiratoria, che presso il nostro istituto ha un pochino un centro di eccellenza per il trattamento chirurgico delle anomalie dell'aringe e della trachea. Voi sapete meglio di me che in fase ispiratoria ci può essere due tipi di rumore, il russamento, che di solito è causato da un'ostruzione faringea alta, quindi a questo livello qua, oppure lo stridore, che di solito è dovuto a un'ostruzione a livello dell'aringe o della trachea prossimale, della trachea cervicale, oppure un rumore espiratorio, che di solito si chiama wheezing, che invece è dovuto a un'ostruzione della trachea distale. Quindi quando il bambino ha un problema respiratorio di tipo respiro rumoroso, stridore, in realtà possiamo già avere un'idea della sede, però prima dell'endoscopia sono solo ipotesi. Quindi è importante fare un'endoscopia, e qui iniziare a un centro che possa fare un'endoscopia anche in anestesia, in sedazione. In realtà si esegue due tipi di endoscopia, una in sedazione molto leggera, quindi per mantenere un respiro, quindi la dinamica, e si fa un'endoscopia flessibile di solito, e allo stesso tempo, nella stessa seduta, un'endoscopia invece rigida, con ottica rigida, perché ti dà una migliore definizione della stenosi. L'anatomia la studi molto meglio in questo modo qua, però serve di solito una sedazione, anche qualche volta una cura e realizzazione, perché il bambino in questo caso non deve muoversi. E la endoscopia rigida può anche servire per eseguire un'endoscopia operativa. Le anomalie congenite più comuni in un bambino con stridore può essere la laryngomalacia, la paralisi bilaterale delle corde vocali, che non è così rara, o la stenosi sostoglottica congenita. La laryngomalacia di solito non richiede chirurgia in realtà, perché spesso il nostro idore che passa da solo, con la crescita, ci possono essere diversi tipi, qualche volta occorre eseguire un intervento con il laser, endoscopicamente si risolve questo problema di laryngomalacia. Per quanto riguarda la laryngomalacia, invece sono molto più frequentemente quelle acquisite, piuttosto che quelle congenite, e la causa è di solito l'intubazione. Quindi pazienti piccoli, prematuri, pazienti cardiopatici che necessitano di intervento chirurgico, di intubazione magari un pochino prolungata, o altre cause, possono causare, anche se per fortuna sono molto molto ridotti nel corso degli anni, in una certa percentuale di casi, una stenosi post-intubazione, che di solito, queste sono le stenosi congenite, vedete, possono essere un spessimento della lamina anteriore, un spessimento generalizzato, un cricoide ellittico, mentre invece le lesioni di intubazione di cui parlavo prima, sono di solito dovute a un decubito, diciamo così, del tubo tracheale sulla porzione posteriore del cricoide. Il cricoide è l'unico punto della via aerea in cui la cartilagine è presente sia davanti che dietro e quindi un tubo, soprattutto un pochino grande per l'anatomia del paziente, può causare un edema inizialmente e una cicatrizzazione progressiva. Di solito c'è proprio un'evoluzione della lesione da, diciamo, un grado lieve a un grado molto più importante ed è qui che l'anestesista, l'intensivista, il chirurgo, l'otorino possono intervenire endoscopicamente, diciamo, per fermare questa evoluzione. L'asteno isotoglottico, una volta che si è instaurata e stabilizzata da uno stridore che può essere inspiratorio o anche bifasico, può dare laringiti ricorrenti, laryngospasmo, infezioni respiratorie ricorrenti, sono bambini che a volte non si sa che abbiano stenosi, che hanno magari storia di intubazione alla nascita e che però fanno infezioni ricorrenti, oppure arrivano a pronto socorso con laryngospasmi ripetuti. Come si tratta nel steno isotoglottico? Beh, ovvio che la tracheotomia rimane una possibilità nei casi magari urgenti o se uno non è in un centro dove possa eseguire una chirurgia ricostruttiva più complessa che sono queste, possono eseguire interventi endoscopici o ricostruzioni alaryngotracheali o resezioni cricotracheali semplici. Poi vedremo di volta in volta gli interventi. Questa è la gradazione. Nel primo grado, che è fino al 50% di ostruzione, spesso i sintomi sono totalmente assenti. Quando uno ha sintomi, di solito è già dal grado secondo in avanti fino ad arrivare al grado quarto, in cui non c'è lume, quindi questi sono bambini già sottoposti a tracheotomia. Nel primo grado si può anche solo osservare oppure intervenire endoscopicamente, come anche nel secondo grado. Terzo grado si può qualche volta intervenire endoscopicamente, ma molto più frequentemente occorre una ricostruzione alaryngotracheale, quindi un intervento a cielo aperto, o una resezione cricotracheale parziale. Qui è un messaggio più che altro per i chirurghi. In tutti i libri c'è scritto di eseguire la tracheotomia tra il secondo e il terzo anello. In realtà sarebbe meglio eseguirla o nel primo anello o nel quinto anello, perché poi quando uno si trova a dover ricostruire la trachea, una tracheotomia qui in mezzo, diciamo che costringe a portare via un tratto di via aerea molto più lunga. Anche ad esempio nella stenosi tracheale il concetto è di eseguire la tracheotomia dove vai poi a non danneggiare trachea normale. E questa è la ricostruzione alaryngotracheale, quindi il primo intervento a cielo aperto che volevo presentare si prende una cartilagine e si amplia la via aerea anteriormente, oppure anche anteriormente e posteriormente, come in questo caso con la cartilagine. Qui sono esempi anteriore, qui c'è anche uno stente che abbiamo lasciato all'interno, la via aerea aperta e la cartilagine. Qui è la cartilagine invece che viene messa posteriormente, qui la via aerea aperta sia davanti che dietro e viene messa alla cartilagine posteriormente. Quando la stenosi è di quarto grado, quindi non c'è proprio lume, cosa succede? Che qui abbiamo cicatrice a 360 gradi, se noi facessimo anche un doppio graft, un doppio innesto, però abbiamo ai lati sempre cicatrice e davanti e dietro comunque una zona di cartilagine, quindi non c'è mucosa, qua c'è pericondrio e quindi questo è destinato a fallire in molti casi. Allora in questo caso non è consigliabile questo tipo di intervento, ma è consigliabile la resezione cricotracheale. Cosa si esegue? Qui c'è la stenosi, vedete la tracheotomia in questo caso è un po' in mezzo tra il terzo e il quarto anello, quindi ci costringe a resecare fino a oltre la tracheotomia, fosse stata più vicina alla stenosi e avremmo reseccato meno via aerea e una volta reseccata la parte malata si esegue l'anastomosi. La cosa bella di questo tipo di intervento è che la mucosa viene avvicinata tra il mucone prossimale e col distale e quindi a 360 gradi avremo mucosa e questo dà una garanzia di successo molto maggiore. Qua vediamo immagini, di nuovo la parte reseccata, ecco si lascia il cricoide posteriore, per questo è parziale, perché una resezione cricotracheale è parziale, perché qui dietro ci sono i nervi ricorrenti che vanno salvaguardati. Qui vedete la cartilagine tiroide aperta, la cartilagine cricoide col piatto posteriore preservato, la trachea, ovviamente la tracheotomia intraoperatoria e poi l'anastomosi completata e poi si può decidere se lasciare o meno la tracheotomia postoperatoria. In conclusione, nella chirurgia del collo esistono molte possibilità di patologie e di presentazioni cliniche. Essendo patologie piuttosto rare, in ogni centro c'è un'esperienza di solito di pochi casi e per questo sono possibili, e comunque il collo è una regione difficile da operare, le complicanze sono, diciamo così, in agguato e possono essere anche importanti. Per cui è importante avere una grande esperienza chirurgica della regione, una grande esperienza di casi, ma anche qualche volta è difficile, oltre a eseguire l'intervento, decidere quale intervento sia consigliabile, ricordate il caso ad esempio dei tumori tiroidei e anche per la via aerea vale la stessa cosa. Quindi è assolutamente indispensabile avere un team multidisciplinare per trattare bene questi pazienti. Sarebbe importante a livello anche così nazionale evitare una dispersione dei casi e o affidamento a chirurghi per adulti che non sono poi abituati alle patologie dei bambini e quindi sarebbe auspicabile la centralizzazione dei casi. Vi ringrazio e ancora tanti complimenti per questo congresso.